Piccoli segnali di speranza per i tanti giovani laureati e disoccupati di Isernia e provincia. Infatti l'amministrazione provinciale e il Tribunale hanno firmato un accordo che prevede tirocini al Palazzo di Giustizia per quattro neolaureati in legge. Gli stage retribuiti saranno finanziati dalla provincia. È un'opportunità che noi diamo di compiere dei tirocini formativi e il senso della convenzione con la provincia è che questi tirocini hanno un'intennità, ma anche un'intennità incentivante che in questo caso viene corrisposta dalla provincia. Questi tirocini servono appunto a preparare al lavoro ma anche a supporto delle cancellerie e in un momento di così grave crisi economica sono anche un segnale importante per tanti giovani e tante famiglie che potranno usufruire di questi tirocini. Il numero per ora non è elevato, però ci sarà una rotazione su base semestrale per cui alla fine nei due anni diciamo sarà un numero abbastanza buono di giovani cui daremo questa opportunità. Per ora si tratta di laureati, vedremo poi in futuro anche per quanto riguarda eventualmente i diplomati. Come verrà scelto questo personale, Presidente? Ci saranno criteri assolutamente oggettivi e trasparenti per la selezione di questo personale. Probabilmente per quanto riguarda i laureati sarà sulla base del voto di laurea, della media e poi dell'età. Ci sono anche altre prospettive, sappiamo che lei da quando è venuto qui ha messo in cantiere diverse cose. Per quanto riguarda, ripeto, questo discorso abbiamo questi tirocini ora a supporto delle cancellerie, probabilmente con altre convenzioni ne avremo anche altri. Ci sono altri tirocinanti sempre laureati invece che sono a supporto dei magistrati, che compiono il loro tirocino con i magistrati. In quest'ultimo caso però a titolo gratuito. Tra non molto dovrebbero pervenire dei nuovi giudici onorari, anche sempre in aiuto di questo tribunale per smaltire soprattutto l'arretrato civile e penale qui pendente. E stiamo adesso valutando col Comune di Sernia la possibilità di ampliare gli spazi di questo tribunale, acquisendo nuovi spazi così da poter allargare sia gli archivi sia da dare maggiore spazio anche agli uffici amministrativi del tribunale.